Gauntlet Gauntlet è il rifacimento di quello che in molti considerano il capostipite del genere hack and slash e uno dei primissimi dungeon crawler multigiocatore. Sviluppato dal team Arrowhead che ha dato i natali all'ottimo magica, il titolo è arrivato in redazione per darci la possibilità di testare i primi livelli di gioco. Ad un primo sguardo, tutto fa pensare che gli sviluppatori del nuovo Gauntlet abbiano puntato interamente sul fattore nostalgia, limitando al minimo le aggiunte in chiave moderna e restando il più vicino possibile al vecchio titolo di Atari del 1985. I nomi dei quattro eroi sono rimasti invariati, così come il tema della colonna sonora e persino i caratteristici bip prodotti dalla raccolta degli oggetti. L'estremizzazione di questo aspetto del reboot è lampante se si dà una sbirciata nelle opzioni, per scoprire con un certo stupore la Classic Mode, che trasforma la rinnovata veste grafica in un'orgia scomposta di pixel. Ci siamo lanciati a capofitto nei quattro livelli a nostra disposizione, per saggiare il gameplay del titolo Arrowhead. Sotto questo aspetto i retro gamer possono stare piuttosto tranquilli. L'impostazione dei livelli e gran parte delle meccaniche di gioco sono rimasti pressoché invariati rispetto all'originale. Abbiamo rivisto i fantasmi di un'epoca videoludica ormai andata, ed un'azione compulsiva e martellante. Una certa euforia iniziale si è spenta però di fronte ad una progressione eccessivamente lineare, ad un level design piuttosto monocorde e ad una scarsa cura per il bilanciamento degli eroi. Il titolo fra l'altro compie scelte sicuramente impopolari, togliendo ai potenziali fruitori il gusto del loot fuoribondo. I dungeon di Gauntlet, infatti, seppur carichi di tintinnanti monetine dorate, non contengono armi ed equipaggiamento. Questi ultimi potranno essere acquistati accumulando quantità spropositate di monete, da spendere poi nella lobby. Nelle sessioni di prova non abbiamo potuto nascondere una certa perplessità riguardo alla potenziale longevità del titolo di Arrowhead. I quattro livelli di prova, pari ad un terzo dei livelli di gioco finito, vanno via in una manciata di minuti. E se l'estensione dei dungeon nelle fasi avanzate di gioco non subirà un aumento notevole, non vediamo come possa essere possibile esaurire l'esperienza in più di un paio d'ore. Nonostante le succitate carenze, il gameplay di Gauntlet si è mostrato abbastanza appagante nella sua semplicità, soprattutto se giocato in co-op locale. Se alcuni personaggi come la Valkyrie sono estremamente vulnerabili in singolo, con il supporto di un secondo giocatore e delle sue abilità, la situazione può cambiare radicalmente. Arrowhead ha anche introdotto qualcosa di nuovo. Lo stregone ha dalla sua un vasto assortimento di magie, disponibili già nella prima partita, e gestibile grazie a veloci combinazioni di tasti in un sistema direttamente ereditato dal valido magica. Allo stato attuale Gauntlet non è riuscito a convincerci a pieno, forse per una struttura estremamente orientata alla celebrazione del titolo originale di quasi 30 anni fa, che non lascia spazio ad aggiunte sostanziali. Il rischio è che il prodotto, seppur ben studiato e sviluppato con un intento ben preciso, possa essere fruibile da un target estremamente ridotto, fatto di soli retro-gamer incalliti. Basterebbe l'introduzione di un sistema di lutto adeguato e qualche miglioria in fatto di varietà di scenari per fare di Gauntlet un titolo più che valido.